Musica Buongiorno e benvenuti alla prima edizione del nostro telegiornale Operazione Agurà portata a termine dalla procura distrettuale dai carabinieri della Rossa del comando provinciale di Siracusa nei confronti di 56 persone affiliate ai clan Santa Paola Ercolano interessati diversi territori ricadenti nelle province di Catania e Siracusa Duro colpo inferto alla clan Santa Paola Ercolano sono 56 le misure cautelari eseguite da oltre 400 militari del ROS e del comando provinciale di Siracusa tra Catania, Ramacca, Vizzini, Caltagirone e San Michele di Ganzaria e in tre paesi dell'area siracusana Lentini, Carlentini e Francofonte L'operazione è stata denominata Agurà e si concentra sulle famiglie affiliate a Cosa Nostra tra Catania e Siracusa e appartenenti alla frangia Santa Paola Ercolano di Caltagirone e Ramacca e al clan Enardo di Lentini Il provvedimento del Gip Etneo è stato notificato sinora a 41 persone destinatari di misura cautelare in carcere e a 9 di misure non detentive Gli arrestati sono gravemente indiziati con 26 diversi capi di imputazione di associazione mafiosa traffico e smercio di sostanze stupefacenti estorsione pluriaggravate illecita concorrenza turbata libertà degli incanti e trasferimento fraudolento di beni tutti reati aggravati dal metodo delle finalità mafiose Notificato anche un decreto di sequestro preventivo di beni per un valore di 10 milioni di euro nei confronti di nuove società attive nei settori dell'edilizia, della logistica e dei servizi cimiteriali oltre a bene e conti correnti ad esseri conducibili Nell'ambito dell'operazione Agora i carabinieri hanno inoltre sequestrato 108 kg di marijuana oltre 2,5 kg di cocaina e 57 kg di hashish Le indagini iniziate nella 2016 e dallo sviluppo delle quali hanno contribuito le dichiarazioni di 16 collaboratori di giustizia sono in prosecuzione del procedimento caos che come ritiene la procura distrettuale Tennea hanno cronologicamente svelato le criticità i nuovi rapporti di forza e gli equilibri raggiunti tra le famiglie di Cosa Nostra operanti nei territori di Catania, Caltagirone e Siracusa e nello specifico della famiglia Santa Paola Ercolano la famiglia Larocca, la famiglia di Ramacca e il clan Nardo secondo la DDA di Catania grazie all'indagine dei carabinieri del Ross e del comando provinciale di Siracusa è stata documentata la riorganizzazione interprovinciale del sodalizio mafioso che pur dopo l'esecuzione delle ordinanze adottate nell'ambito del procedimento caos è riuscito a mantenere l'operatività nei tradizionali settori delle estorsioni del recupero crediti e della cessione di stupefacenti secondo l'accusa inoltre i clan avrebbero avuto la capacità di infiltrarsi nell'economia lecita nel settore dei trasporti su gomma e in quello dell'edilizia interferendo anche nei processi decisionali degli enti locali come nell'ipotesi dell'alterazione delle procedure per l'affidamento dei servizi cimiteriali nel comune di Vizzini e nelle ipotesi degli affidamenti per le manutenzioni stradali curati dalla comune di Caltagirone la polizia di stato ha tratto in arresto Antonina Musumeci 57 anni pregiudicata ricercata destinataria di ordine di esecuzione per la carcerazione emesso lo scorso 29 aprile 2022 dalla procura generale presso la corte d'appello di Catania la donna deve spiare la pena di 11 anni di reclusione per il reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e marijuana la donna è stata tradotta nella casa circondaliare Pagliarelli di Palermo dove è a disposizione della competente autorità giudiziaria sottoposto a libertà controllata usa un veicolo rubato per razziare un catalizzatore da un'auto parcheggiata i carabinieri della stazione di Sant'Agata dei Battiati hanno denunciato un catanese di 49 anni gravemente indiziato di furto aggravato ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate e Grimaldelli i militari sono intervenuti a seguito di una segnalazione da parte di un cittadino pervenuto al 112 il numero unico di emergenza che ha notato un uomo intento di armeggiare disteso sotto una autovettura in sosta in via Giacomo Leopardi la tempestività dell'intervento ha permesso ai carabinieri di individuare e bloccare il catanese e constatare che dal veicolo era stato asportato il catalizzatore mediante l'utilizzo di una smerigliatrice lo stesso a seguito di perquisizione è stato trovato in possesso di diversi elettro utensili attrezzi e chiavi di vario genere tutto sottoposto a sequestro e adesso torniamo ad occuparci della vicenda che purtroppo fa capolino in questi giorni in tutti i notiziari vuole a dire la morte e l'uccisione della piccola Elena il legale Gabriele Celesti si è presentato stamattina nel carcere di Piazza Lanza a Catania dove è rinchiusa in isolamento Martina Patti la mamma che a mascheruccia ha ucciso la figlioletta di quasi 5 anni alle prossime ore l'avvocato sentirà in videoconferenza la donna domani invece è previsto l'interrogatorio di garanzia Gabriele Celesti questa mattina si è presentato nel carcere di Piazza Lanza a Catania e il legale di Martina Patti la 23enne che lunedì pomeriggio ha coltellato finendola la piccola Elena 5 anni il prossimo luglio sua figlia molti punti oscuri sulla vicenda che rimangono tali anche perché l'avvocato non ha incontrato la donna lo farà nelle prossime ore ha detto in videoconferenza certo è che domani dovrebbe svolgersi l'interrogatorio di garanzia sempre domani l'autorità giudiziaria dovrebbe disporre l'autopsia sul corpicino Elena sarebbe stata attinta da colpi d'arma bianca forse un coltello da cucina al collo all'orecchio alla schiena non si trova l'arma né ad oggi è stato chiarito dove la mamma abbia colpito mortalmente la figlia nel primo interrogatorio Martina Patti ha detto di avere fatto tutto da sola in quel tragico pomeriggio poi ha inserito la cadavere all'interno di 5 sacchi seppellendo il tutto nel campo di mascolicia dove poi la stessa donna ha portato i carabinieri che hanno ritrovato la piccola Elena in un primo momento Martina Patti si era inventata la storia del rapimento nel tentativo di sviare le indagini ma le incongruenze sono state immediatamente evidenziate dagli investigatori poi il crollo e la confessione almeno per come si sa sino ad oggi di certo rimangono ancora tanti punti oscuri l'arma non si trova non è stato ancora chiarito il movente si pensa alla gelosia per l'affetto che la figlia avrebbe riposto nella nuova compagna dell'ex compagno di Martina Patti papà di Elena e tutto è demandato all'accertamento autoptico e alle indagini che verranno svolte dalla SIS dei carabinieri probabilmente a partire dalle prossime ore questi alcuni stracci delle dichiarazioni rilasciate da Gabriele Celesti all'uscita da Piazza Lanza ci ha parlato? no 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 poi cercheremo un modo diverso con una video che è andata però è in isolamento sì sì certo vabbè l'isolamento è previsto dall'ordinamento penitenziario in attesa di interrogatori e maggiore ragione per il reato che diciamo viene attribuito è riuscito ad avere una frase sua qualcosa che le ha comunicato lei e il suo sarà il suo avvocato domani per l'interrogatorio qualcosa che le ha fatto arrivare? no no niente perché ancora non ci ho potuto parlare farò poi una videochiamata come prevede la possibilità dell'istituto si è fatto tutto da sola? così è stato dichiarato dalla signora sì le parole sono state sostanzialmente queste di aver agito da sola sì 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 questo è stato dichiarato in questi casi quindi nel campo non a casa così è stato dichiarato dall'interessata sì è stato un interrogatore drammatico di una madre che aveva fatto un gesto sicuramente ingiustificabile evidentemente mano a mano sta acquisendo coscienza sull'esito di questi rilevi non so nulla perché ancora non avendo potuto vedere gli atti evidentemente non posso dire se questi rilevi siano completi incompleti cosa ne possa essere emerso lei si confronterà con la sua assistita le consiglierà di non rispondere al giudice di avvalersi della facoltà o di non rispondere o di parlare la signora ha già risposto all'interrogatorio poi non so se abbia qualche cosa da aggiungere questo lo approfondiremo e valuteranno al momento in isolamento fiduciario per le norme anti-covid quindi la videoconferenza con il legale la donna è accusata di omicidio premeditato pluriaggravato e occultamento di cadavere il rispettoso silenzio la preghiera ed il perdono nelle parole dell'arcivesco di Catania Luigi Renna durante l'omelia nella chiesa di San Vito a Mascaluccia ieri sera commentando l'omicidio della piccola Elena coltellata dalla mamma come già vi abbiamo informato il sindaco di Mascaluccia ha assolutamente interrotto qualsiasi tipo di festeggiamento proprio in onore delle feste patronali sono parole di speranza di solidarietà quelle pronunciate dall'arcivesco metropolita di Catania Monsignor Luigi Renna ieri durante l'omelia nella chiesa di San Vito Martire patrono e produttore di Mascaluccia nel giorno dei festeggiamenti annullati in seguito alla tragedia che ha colpito la comunità con la morte della piccola Maria Elena la bambina di 5 anni accoltellata dalla madre Martina storie come queste ecco possano prima covare nel cuore delle persone e poi esplodere in modo così violento io chiedo anzitutto al Signore di accogliere Elena questo angioletto e chiedo poi che la famiglia trovi la forza di ricominciare ciascun componente di questa famiglia c'è un papà c'è una mamma ci sono dei nonni ci sono degli altri familiari possano guardare al futuro pensando che questa bambina stessa qua si chiede loro di amare la vita quella vita che lei non ha potuto vivere in pienezza in età adulta che sia perlomeno la vita che loro si concedono la comunità religiosa ha preso parte alla Santa Messa ascoltando commossa la predica del presule rientrato dalla Puglia desideroso di presenziare la cerimonia religiosa in un momento di grande sconforto per quanto accaduto facciamo silenzio rispettiamo il dolore guardiamo con grande senso di responsabilità quello che può accadere a chiunque in circostanze estreme in uno dei passaggi più toccanti dell'Omelia questa morte ci interroga come comunità cristiana e civile ha proseguito Monsignor Renna perché quando si consumano tragedie a tutti dobbiamo chiederci qual è il suo punto di inizio cosa è mancato alla persona e alla società in cui la persona vive il silenzio la misericordia la preghiera il rifiuto di ogni forma di giudizio discriminante ma anche l'invito a organizzare strutture e percorsi che diano speranza a tutti ma certamente comprendiamo che manca qualcosa che è essenziale in una donna in ogni essere umano l'istinto materno quando viene annullato l'istinto materno vuol dire che c'è qualcosa che lo ha sconvolto in una maniera radicale un'azione di questo tipo può un giorno contemplare il perdono il perdono è un dono di Dio che Dio ci chiede la misericordia è sempre l'ultima parola sulle nostre miserie umane però ecco dobbiamo pregare perché non è un gesto automatico come sta reagendo la comunità ma io vedo che la comunità si sta raccogliendo ha avuto un bel gesto che è quello di fermare i festeggiamenti e io ringrazio le autorità e i sacerdoti di Masca Lucia perché non si poteva certo festeggiare con questo macigno sul cuore quindi la comunità sta reagendo con responsabilità però io credo che ancora responsabilità si potrà manifestare nella misura in cui si metterà da parte ogni giudizio si lascerà l'ultima parola alla giustizia la penultima parola alla giustizia e l'ultima parola alla misericordia di Dio è stato sospeso per errori procedurali al Tribunale di Trapani il processo contro i quattro membri dell'equipaggio della nave Juventa che altri 17 imputati accusati di favoreggiamento dell'immigrazione non autorizzata corretti gli errori la riapertura dell'iter processuale è prevista per il prossimo autunno il processo al Tribunale di Trapani contro i quattro membri dell'equipaggio della nave Juventa e altri 17 imputati accusati di favoreggiamento dell'immigrazione non autorizzata è stato sospeso a causa di errori procedurali da parte dell'accusa il giudice ha respinto la richiesta della procura di ignorare questi errori ed ha invece seguito l'argomentazione della difesa secondo cui l'accusa non aveva informato gli imputati sugli aspetti cruciali del procedimento violandone così i diritti fondamentali ha quindi rinviato il caso alla procura per la correzione degli errori e la riapertura del processo è prevista in autunno dopo cinque anni di indagini l'accusa ha avuto il tempo a sufficienza per condurre un giusto processo e non sarebbe appropriato a frettare il procedimento proprio ora sostiene l'avvocato difensore Francesca Cancellaro l'equipaggio della Juventa insiste sul fatto che le accuse contro di loro di avere concordato dei salvataggi direttamente con gli scafisti sono del tutto destituite di fondamento e sarebbero dovute cadere molto tempo prima se condannati gli imputati rischiano fino a vent'anni di carcere inflazione record in Sicilia con il tasso anno di crescita dei prezzi al dettaglio che a maggio ha raggiunto la quota del più 8,3% e picchi di 8,8% a Palermo e Catania lo afferma in una nota il Codacons commentando i dati diffusi dall'Istat in Sicilia i prezzi al dettaglio crescono più velocemente rispetto al resto d'Italia la media nazionale dell'inflazione si attesta a maggio al più 6,8% in regioni in Listini crescono dell'8,3% raggiungendo la quota appunto come detto di 8,8% a Catania e Palermo un nucleo familiare in Sicilia si trova a spendere nel 2022 mediamente più 2.010 euro su base anno a causa dell'aumento dei prezzi al dettaglio stangata che arriva a circa 2.200 euro annue a Palermo e Catania dove l'inflazione è superiore alla media regionale la sidra ha tentato oggi di staccare il servizio idrico allo stabile occupato nel via Calatabiano a Catania gli occupanti si sono opposti è stata una mattinata particolarmente movimentata come ci racconta Mario Grasso il distacco dalla rete dell'allaccio abusivo un nuovo allaccio alla condotta dell'acqua quindi la sidra che invia a seguito di alcune diffide pervenute dalla proprietà i mezzi meccanici per interrompere il flusso d'acqua nell'immobile occupato ormai da 7 anni in via Calatabiano al civico 49 si tratta di una vecchia proprietà di Unicredit nel corso degli anni finita in cronaca proprio per l'occupazione oggi li risiedono 5 nuclei familiari per un totale di 28 persone questa mattina dunque i mezzi della sidra che hanno tentato di staccare l'acqua ma subito l'opposizione di chi in quel palazzo risiede è arrivata anche la polizia per evitare disordini i lavori di distacco si sono fermati anche perché nel frattempo è scattato una mediazione che ha permesso lo slittamento delle operazioni previste invece per questa mattina si tenterà un incontro chissà chi risiede ormai da 7 anni in quel palazzo sa di essere abusivo ma conferma anche ai nostri microfoni di volere regolarizzare la posizione ma dalle difide che sono state prodotte dalla proprietà sembrerebbe che le idee della stessa proprietà sull'immobile siano diverse si abbiamo cercato di interrompere i lavori per evitare che distaccano l'acqua che tolgano letteralmente i tubi dalla pavimentazione stradale per impedire eventuali futuri allacci bloccare il cantiere e prendere questa scusa per aprire un'altra tavola di trattativa per farci fare un contratto regolare che noi lo vorremmo l'immobile è di proprietà di una SRL che aveva tentato insomma delle azioni poi non sono andate però a buon fine si la Fincobo con sede legale a Roma voi cosa chiedete siete disposti eventualmente a proseguire la strada della tra virgolette legalità nel senso di advenire a delle contrattazioni per poter avere l'immobile in maniera diciamo legale certo noi abbiamo chiesto dai primi giorni sia alla società se ci facevano dei contratti affitto disposti a pagare l'affitto sia alle varie utenze che ci fanno dei contratti come la si è chiesto più volte se ci fa un contratto legale dell'acqua per stare tranquilli noi e essere nella legalità non ce l'hanno permesso rimanete qua non abbiamo altra scelta al via la campagna di adesione 2022-2023 al Consorzio Arancia Rossa di Sicilia IGP i produttori e i confezionatori possono rinnovare l'adesione entro il 31 luglio il termine per la nuova iscrizione invece fissato per il 30 settembre prossimo oggi la rete commerciale la grande distribuzione organizzata le aziende di trasformazione richiedono sempre più il prodotto certificato IGP a garanzia dei consumatori della tracciabilità della qualità afferma in una nota il presidente del Consorzio Gerardo Diana e adesso andiamo ancora avanti parliamo di donazione della sangue l'arrivo della stagione estiva ripropone l'emergenza a fronte di una popolazione che invece invecchia siamo andati nella centro trasfusionale dell'ospedale Garibaldi centro di Catania dove ogni giorno da lunedì a sabato è possibile mettersi al servizio della comunità Guenda Garozzo donazione di sangue i dati a confronto tra il primo quadrimestre del 2021 e quello di quest'anno mostrano una riduzione del 5% qui al centro trasfusionale dell'ospedale Garibaldi di Catania ogni giorno è possibile mettersi al servizio della comunità da lunedì a sabato il periodo estivo mostra le debolezze di un sistema che purtroppo risente di una carenza culturale soprattutto tra i giovani la popolazione invecchia e questo è un problema ormai la donazione si può dire che è come un vestito che si cuce addosso al donatore ecco questo permette a chi dona di avere anche un check up completo periodico certo naturalmente noi faremo gli anticorpi HCV gli anticorpi quindi epatite B epatite C AIDS la sifilide e poi tutti i normali test sul metabolismo che posso dire ad esempio emocromo ferritina colesterolo totale l'HDL l'HDL trigliceridi dove c'è una piccola formuletta per calcolare anche il rischio dell'indice cardiovascolare fondamentale il supporto delle associazioni di volontariato spiega Nuccio Sciacca direttore del servizio di immunoematologia e medicina trasfusionale del nosocomio di Piazza Santa Maria di Gesù ogni giorno dobbiamo fornire per i pazienti assistiti dalla unità operativa di microcitemia tra 30 e 35 unità questo significa che ci devono essere state nei giorni precedenti 30-35 persone che hanno donato il sangue e come avete sentito dai numeri che registriamo noi qui per esempio al Garibaldi si presentano 7-8 persone al giorno quindi è un problema riuscire a garantire la qualità di vita del talassemico che è fortemente legata al sangue che ogni 15-20 giorni deve trasfondere la popolazione dei donatori è una popolazione che sta invecchiando è uno dei motivi per cui vengono pochi donatori la nuova generazione quella di coloro che hanno compiuto i 18 anni e che quindi possono donare il sangue non è sensibile come le generazioni precedenti noi qui ci troviamo al Garibaldi ma è giusto ricordare che i centri trasfusionali a Catania sono tre gli altri due sono al Policlinico e al Cannizzaro poi ce ne sono altri due sul territorio quindi appartengono all'ASP da un punto di vista di sanità e precisamente a Paternò e a Caltagirone ma quello che è importante è il fatto che in Sicilia tra l'80 e il 90% della raccolta non avviene nelle strutture pubbliche ma avviene nelle unità di raccolta delle associazioni di volontariato quindi sottolineo ancora una volta l'importanza nella nostra regione delle associazioni di volontariato vi faccio un paragone per tutti che già ci lascia capire quanto sia importante da noi il ruolo del volontario dell'associazione nel Friuli Venezia Giulia la raccolta è al 100% pubblica cioè si può donare solo negli ospedali in Sicilia invece ribadisco quel dato 80-90% lo si fa nelle associazioni parliamo adesso di rifiuti restiamo a Catania dal lunedì prossimo in altre zone del capoluogo Etneo partirà il porta a porta appunto nell'ambito della raccolta differenziata in queste ore si lavora per ripristinare le condizioni di strade e piazze dove nelle scorse settimane è stata piena emergenza sanitaria continuano intanto i controlli da parte della polizia locale come ha confermato ai nostri microfoni l'assessore all'ecologia della comune di Catania Andrea Barressi emergenza rifiuti a Catania si va verso la normalità si lavora senza sosta per ripristinare le condizioni di salubrità di strade e piazze per Mangono zone in cui le criticità sono evidenti via Palazzotto questa mattina si presenta così la carreggiata ridotta da una montagna di spazzatura che si estende per decine di metri l'aria irrespirabile la polizia locale presidia i luoghi a rischio abbandono Sacchetti l'assessore all'ecologia all'ambiente del comune di Catania Andrea Barresi stiamo andando a chiudere tutti i quadrati con la polizia locale stiamo anche telecameralizzando ricordiamo che il rifiuto dove non vi è più il cassonetto rientra tra i rati ambientali quindi la sanzione è di 600 euro stiamo facendo verbali per far capire alle persone che la differenza è arrivata rimuoveremo con puntualità quello che purtroppo ancora è rimasto in città dando anche un monito quello che può essere se non si va a differenziare siamo pronti a sostenere questa battaglia questo cambiamento epocale che la città di Catania sta facendo a differenza di tante altre città dove pur essendo indietro di anni come grande metropoli stiamo correndo per dotare la nostra città di ciò che ormai è dovuto e che non possiamo più fare a meno intanto la notizia che il porta a porta si estende da lunedì nelle zone di Cibali Borgo Sanzio Enesima e Inferiore dopo Picanello ogni nel lungomare un nuovo step per altri 50.000 abitanti fondamentale rispettare il calendario della raccolta di Chiara Barresi che auspica la massima collaborazione dei cittadini stiamo intervenendo andando a chiudere step per step tutte le parti della città il 20 si parte con questo quartiere importante con lo step di Enesima di Borgo Sanzio e appunto di Cibali stiamo procedendo stiamo andando avanti con una comunicazione serrata e fita tutti i cittadini saranno informati ovviamente del cambio del calendario quindi di regime di porta a porta e che i cassonetti saranno levati a partire da giorno 21 raccomandiamo a tutti i cittadini di usare con intelligenza e con dovizia il calendario differenziando e mettendo fuori dalla propria abitazione in base agli orari la tipologia di rifiuto per come è prevista dal calendario che tempi ci sono per il ritorno alla normalità ma guardi abbiamo azzerato il 95% del territorio manca qualche altra piccola postazione che nel giro di un paio di ore saranno ovviamente ripulite stiamo verificando con i sorveglianti comunali anche con i nostri ispettori quello che è lo stato dell'arte in città le ripeto ormai sono quasi state tutte azzerate manca solo qualche cumulo che entro stanotte sarà completato cambiamo argomento nell'ambito delle iniziative organizzate per celebrare i 150 anni di vita ecclesiale della diocesi di Acireale l'associazione Cento Campanili propone il primo corso di formazione itinerante realizzato con il contributo dell'otto per mille alla chiesa cattolica un percorso alla riscoperta della diocesi acese che prevede tre lezioni itineranti nelle aree pastorali che la compongono la storia la cultura l'arte la fede delle tradizioni della diocesi diventano così oggetto di approfondimento e di studio in vista di una condivisione in stile sinodale che favorisca la valorizzazione dei luoghi del patrimonio culturale ecclesiale sono tre gli appuntamenti domenica 19 giugno nella terra di Aci uno scrigno di arte e fede ad Aci Sant'Antonio e poi domenica 3 luglio Etna 1928 il percorso della lava tra fede, arte e storia e infine sabato 23 luglio a Randazzo tra ordini religiosi clero e confraternite e restiamo ad Acireale dove è stato inaugurato e aperto stamattina al pubblico il solarium di Santa Tecla frazione acese la piattaforma è abilitata anche alla fruizione delle persone con disabilità ed è stata a costruire per consentire l'accesso in mare in sicurezza ai portatori di handicap assistiti da personale opportunamente formato per il soccorso in acqua salvo cutori inaugurato stamattina il solarium di Santa Tecla una delle 5 frazioni a mare di Ecireale la piattaforma riservata ai bagnanti può accogliere in sicurezza anche le persone con disabilità con l'assistenza di bagnini opportunamente formati all'assistenza in acqua in caso di necessità stamattina è simulato un intervento di soccorso presente il sindaco a Stefano Lì e l'assessore al mare Danilo Pulvirenti si tratta di una delle due piazzole in legno previste l'altra a Pozzillo è saltata per mancanza di fondi quella di Stazio è stata data in concessione ad un privato e aprirà al pubblico dopodomani Don Alfredo Dan ha presenziato le cerimonie con la benedizione del solarium di cui possono disporre tutti la spiaggetta delle cocole di Santa Tecla frequentata da centinaia di bagnanti recentemente è stata fatta oggetto di lavori di livellamento della renile da parte del comune la terrazza in legno con tanto di passarelle e mare per le persone affette da disabilità dispone anche di un tiralò lo vedete nelle immagini riservate a quanti soffrono problemi di diambulazione il solarium è uno dei meglio attrezzati del lungo costa cese ed è aperto tutti i giorni con servizio di assistenza l'assessore armare Danilo Pulvirente ha impegnato uomini e risorse nella veloce installazione della piattaforma in anticipo rispetto al bio ufficiale della stagione estiva siamo riusciti a ottenere nonostante le enormi difficoltà che ci sono state dietro questa festa di oggi di normale amministrazione però è stato veramente complicato riuscire a ottenere questo risultato e ringrazio sicuramente gli uffici per l'impegno profuso siamo contenti di avere dato un servizio diversamente abile e aggiungo anche che dopo tanti anni siamo riusciti anche a sistemare la spiaggia e dare possibilità a tutti di poter usufruire di questa bellissima spiaggia l'inaugurazione è stata occasione per testare il servizio da parte dei frequentatori con disabilità tra cui il consigliere comunale Martino Florio ed è sempre in prima linea nei diritti spesso negati alle persone con handicap il fatto di esserci un consigliere anche proprio in consiglio diciamo che vai a contatto con i colleghi l'attenzione sale perché si vede praticamente la disabilità quando c'è come eventualmente poterla superare quindi spesso magari do dei suggerimenti per poterlo fare qui il solarimo già sono tantissimi anni che si fa e ogni anno è una battaglia riuscire a completarlo riuscire a fare tutto quello che serve tutti possono tranquillamente andare a mare farsi il bagno diciamo nell'inclusione più completa che ci sia poi noi abbiamo qui il tiralò che consente a chi non deve amola di mettersi sopra e entrare in acqua con l'aiuto anche dei assistenti bagnanti che ci sono qua per tutta l'estate quindi è un bello mi piace che sia così la stazione Etna Sud del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano dispone di una nuova sede operativa nei locali concessi in comodato d'uso dal comune di Zafferano e Tenea una nuova sede del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano è stata inaugurata nei giorni scorsi a Zafferano e Tenea in locali concessi dal comune in comodato d'uso gratuito l'attività speleologica di Soccorso Alpino nel versante sud del vulcano interviene con professionalità acquisita in caso di emergenza persone smarrite o rimaste coinvolti in incidenti in montagna attraverso l'intervento del gruppo di professionisti profondi conoscitori delle zone montuose di tecniche di recupero in burrone o crepacci ma anche di escursionisti che spesso si smarriscono nei boschi e vengono recuperate prima di guai peggiori derivate dalle violente escursioni termiche che si verificano in quota il documento di concessione dei locali comunali e coordinatore responsabile della stazione Etna Sud del Soccorso Alpino e Speleologico è stato seglato dal sindaco di Zafferano Ateneo Salvatore Russo e dai vertici dell'associazione che potrà così disporre di un punto di appoggio coordinamento e logistica degli interventi richiesti e riferimento per ricercatori e volontari di aggregazione ma anche di occasioni istituzionali e operative la nuova sede di Via Montagna è già pienamente in attività e assicurerà una più ampia e migliore organizzazione di sicurezza e fruizione dell'Etna che ogni anno viene visitata da centinaia di migliaia di turisti e villeggianti oltre tanti appassionati di escursionismo lungo i camminamenti boschivi e le terrazze naturali che offrono una straordinaria vista delle zone sottostanti la convenzione è comune con i vertici dei quadri della ventunesima zona alpina e della stazione Etna Sud prevede una serie di iniziative rivolte alla popolazione finalizzate alla diffusione di una migliore conoscenza e sicura fruizione delle bellezze che offre la nostra Etna Rosalda Punturo delegata di zona del soccorso alpino le attività che verranno organizzate saranno sia attività naturalmente di tipo ordinario quindi attività che possono attenere l'organizzazione dei materiali l'organizzazione della segreteria però proprio perché Zafferano Etnea è in posizione baricentrica nel settore sud orientale dell'Etna permetterà di migliorare anche l'operatività della stazione Etna Sud quindi in termini anche di risposta agli eventi di soccorso durante le urgenze durante le emergenze e avere anche un posto auto sarà utilissimo quindi in modo da assicurare una pronta partenza dei nostri mezzi diciamo che era una necessità esattamente era una necessità da tempo stavamo appunto muovendoci proprio per poter andare a vedere quale posto fosse migliore e naturalmente quale comune potesse essere in grado anche di ospitarci avesse anche la volontà di fare questo quindi ecco noi ospichiamo che questo sia un buon inizio e inoltre anche con il comune di Zafferana stiamo anche intraprendendo dei rapporti di collaborazione per poter organizzare delle attività in modo da sensibilizzare la popolazione a fare conoscere meglio la montagna e come si può anche fruire in maniera ottimale e in sicurezza quindi dell'ambiente montano ci fermiamo linea alla regia tra poco per il meteo non ci sono ulteriori aggiornamenti vediamo dunque insieme le previsioni meteo per la giornata di domani il meteo in sicilia nella giornata di venerdì 17 giugno 2022 il sole splenderà ovunque soprattutto nella parte occidentale nell'entroterra dell'isola qualche nube qua e là nella catanese nel ragusano i mari saranno calmi le temperature previste tra minime e massime la più alta si registrerà ad Agrigento e a Siracusa con 34 di massima un grado in meno a Catania dove la colonnina di Mercurio farà registrare 21 di minima 33 di massima abbiamo concluso vi ricordo che potrete seguire questa edizione della telegiornale sul sito reitv.it sui nostri canali social nel prossimo appuntamento con le informazioni in diretta più tardi a partire dalle 19.45 ringrazio in regia Manuela Musumeci auguro a tutti voi il buon pomeriggio registraria grazie a tutti Grazie a tutti.